buongiorno oggi voglio parlare di agenzie di rating e in modo particolare vorrei parlarvi della autenticità della oggettività della obiettività delle cose voglio farlo perché come noto le agenzie di rating in questi giorni hanno declassato il nostro paese e vedo molte persone che di fronte alle valutazioni soggettive credono che questa sia l'assoluta verità ma l'ha detto repubblica l'ha detto il sole 24 ore l'ha detto il giornale l'ha detto milano finanza i quali a loro volta si rivolgono ad un'autorità superiore e cioè si rivolgono a ma lo hanno detto le agenzie di rating e allora se lo hanno detto le agenzie di rating ah beh allora ci fermiamo perché è un fatto oggettivo indiscutibile assolutamente incontestabile ieri io ero partecipavo come docente in un corso e a un certo punto ho ascoltato la lezione di un collega e questo esimio collega ha fatto una bellissima relazione sul significato della scienza e sul metodo scientifico ora io credo che chi ha il compito di studiare non ha soltanto il diritto di critica ma vi dirò di più ha il dovere di critica e quel dovere di critica è il dovere che dovete avere anche voi chiunque di noi legga studi si informi e non prenda come un atto di fede la realtà vedete la grande differenza tra la religione e la scienza io non posso parlare di religione perché sono un laico ma la scienza come metodo ha quello di criticare analizzare dubitare il dubbio che è non solo un dubbio cartesiano ma un dubbio filosofico che nasce dall'antichità è il valore cioè non prendere come oro colato ciò che vi viene detto ciò che ci viene detto è secondo me il senso del metodo critico e scientifico allora io recentemente ho fatto un post su twitter in cui sostanzialmente dicevo che era un po stupito da questa vicenda del declassamento del mio paese anche perché vedete non viene mai spiegato per esempio in modo chiaro quella che è l'origine del debito e da dove deriva il problema del debito che tanto infiamma i giornali il problema del debito pil dipende intanto da tre fattori fondamentali che vengono sempre dimenticati e cioè le agenzie di rating si guardano bene dal motivare i loro giudizi dicendo la verità e cioè cos'è che produce il debito risposta il debito invece vi fanno credere che il debito sia prodotto dalla spesa pubblica non vi dicono che il debito sia creato perché abbiamo perso la sovranità monetaria perché nel 1981 abbiamo fatto il divorzio tra il ministero del tesoro la banca d'italia perché negli anni 90 abbiamo avuto la liberalizzazione dei mercati perché siamo passati da un debito totalmente acquistato da una banca centrale che ha questo come compito quello di calmierarne il prezzo a un sistema invece di aste nel quale addirittura si è andati in controtendenza assoluta per cui si va al massimo rialzo del prezzo in una logica di totale liberalizzazione che ha portato il nostro paese dal 1991 quando già eravamo in avanzo primario cioè in pratica spendiamo di meno di quello che incassiamo quindi è un falso che il nostro paese sia sprecone il nostro paese invece ha un ottimo bilancio pubblico in cui sostanzialmente abbiamo più entrate che uscite ma abbiamo questo macigno di debito e gli interessi che esplodono sul debito si sono mangiati di più di tutto l'avanzo che noi abbiamo prodotto da circa 28 anni cioè dal 1990 fino ad oggi eppure la terza motivazione che è stato il cambiamento del modello economico e quindi la logica delle privatizzazioni dei tagli dell'austerity taglia la spesa pubblica manda le pensioni le persone in pensione a 80 anni e via discorrendo invece che fare ridurre il rapporto debito pil lo hanno peggiorato allora io mi chiedevo partendo da queste considerazioni ma com'è possibile che un paese che è il quinto paese del mondo come valore aggiunto che ha uno dei risparmi più alti del mondo parlo di risparmio privato che ha circa due terzi di debito interno che ha un export positivo che sta diversificando le importazioni e che ha ridotto il peso degli MPLs ebbene questo paese venga classificato come uno dei peggiori paesi del mondo come è possibile questa magia allora oggi anche facendo riferimento a dei testi dell'antichità vi voglio parlare di questo di alchimia di magia di oggettività di obiettività di speranze e di mancanza di realtà o di visione distorta della realtà facendo anche come dire affidamento sul pensiero non certo mio ma di filosofi che ci aiuteranno un po' a capire meglio come l'economia non sia affatto una scienza perfetta ma qualcosa di imperfetto ora io allora ho scritto un post oggi che vi leggo perché andavo a commentare quel tweet che potete trovare su twitter e potete anche leggere i miei articoli in cui parlo di questo tema sul mio blog malvezzi europei www.malvezzieuropei.it allora io scrivo questo ve lo leggo e poi ve lo commento perché si sta già scatenando su internet un dibattito su quello che ho scritto allora vi voglio dare la mia interpretazione autentica in modo tale che sappiate fino in fondo come la penso rispetto a questo testo si chiama agenzie di rating e complottisti dopo aver pubblicato un tweet che ha fatto un certo scalpore su twitter ho capito che molte persone pensano che le fake news siano quelle dei complottisti naturalmente le persone credono in buona fede che i governi soprattutto dei paesi occidentali faro del razionalismo conquistato in secoli di storia tuteli loro dalla mancanza di verità conseguentemente io che mi permetto di criticare la verità ufficiale vengo quotidianamente fatto segno da più parti di essere un complottista e come tale denigrato da persone che si pongono nei miei confronti su un piedistallo di dotta e austera superiorità ieri ho ascoltato in università una relazione di un esimio collega che ricordava a tutti noi il valore del metodo scientifico in sintesi banalizzo il valore del metodo scientifico consiste nel non fare mai un atto di fede la scienza non è fede ma è una verifica critica della realtà prendiamo ad esempio il bozzuana per quei pochi tra voi non complottisti che pensassero che questo importante stato sia più noto di quello che contiene città retrograde come napoli o venezia consiglio un rapido salto su google scoprireste che mentre noi ignoranti abbiamo fatto nei secoli cosette come la reggia di venaria o la cappella sistina nel bozzuana primeggiavano i bantù noi complottisti rivendichiamo ad esempio che l'italiano fosse la lingua ufficiale della scienza mondiale almeno fino al diciannovesimo secolo e arriviamo a sostenere con una sfrontatezza di parte che non si avrebbe traccia di significativi contributi scientifici nella lingua zuana quella del popolo dei ghepardi e dei licaoni mentre noi complottisti rivendichiamo storie dimenticate come la nascita del tricolore o le guerre di indipendenza dando nel ventesimo secolo al mondo interi nuovi generi letterari piuttosto che modelli bancari che con ammedeo giannini che noi complottisti non crediamo fosse del bozzuana davano origine alla bank of america mentre invece il bozzuana raggiungeva l'indipendenza dal commonwealth poco più di 50 anni fa nel 1966 un rapido salto su google persuaderebbe i non complottisti del fatto che il bozzuana sia un faro della cultura mondiale come evidenziato per esempio dal fatto che la prima foto sotto la bandiera sia quella di un gruppo di elefanti e che poco sotto vi sia quella di bantù intenti ad accendere il fuoco sfregando rametti incrociati noi complottisti siamo certamente frenati nel riconoscere questa oggettiva superiorità culturale del bozzuana dal pensiero partigiano dei musei vaticani piuttosto che di palazzo pitti ma solo perché siamo prevenuti rispetto alle culture boscimane e ottentotte radicate in questo evoluto paese certamente siamo parimenti prevenuti quando controlliamo la voce come spostarsi e troviamo la foto con didascalia due moccoro che attendono gli ipopotami sul delta del fiume okavango riconosciamo pur da complottisti che il nostro paese non abbia una rete infrastrutturale moderna apro una parentesi l'altro giorno spiegavo sulla 7 che se noi avessimo fatto il bilancio che hanno fatto altri paesi europei avremmo fatto 11.000 chilometri di ferrovie invece che invece autopunirci da soli nell'arco degli ultimi dieci anni tornando al testo ma ci chiediamo di quanto sia peggiore quella censita nel 2005 nell'avanzuato bozzuana che contava 25.000 strade di cui 18.000 non asfaltate scusate asfaltate le altre saranno pavimentate in diamanti pensiamo noi a parte il fatto che come ci informa google è bene non avventurarsi senza adeguate protezioni nelle zone desertiche che ricoprono la maggior parte del territorio per il resto si tratta di un paese sicuro quanto al sistema sanitario solo un complottista potrebbe preferire di curarsi in italia che non nell'evoluto bozzuana che è dotato di un bene un ospedale moderno precisamente a gaborone del resto è ben noto che lo stato di degrado delle città italiane e la diffusione di epidemie nella pianura padana al contrario del bozzuana dove le spese mediche sono concentrate soprattutto nella prevenzione e nella cura dell'aiz e della malaria a quel censimento che risultava oltre il 20 per cento della popolazione fosse affetto da ids con migliaia di morti all'anno e con aspettative di vita scese pare dai 60 e circa ai 50 anni a parte questi dettagli chi tolto i complottisti non preferirebbe curarsi in buzzuana piuttosto che che ne so nella retrograda milano e certamente come del resto accade quando si visita palazzo pitti a firenze o la valle dei tempi di agrigento le guide turistiche consigliano un forte rispetto della cultura locale e dei riti tribali quando si visita un villaggio boscimano in compenso a pensare male si assegna probabilmente dalle agenzie di rating un peso ponderale ben maggiore al fatto che uno stato africano da poco più di due milioni di abitanti sia il terzo produttore di diamanti al mondo con un livello di tassazione bassissimo per attrarre capitali stranieri il paradiso per il movimento dei capitali vuoi mettere su un piatto della bilancia da una parte la storia del diritto romano un sonetto di dante millenni di storia e dall'altro una miniera di diamanti vabbè dai ma in fondo io sono solo per il dottor radical chic il classico italiano inacculturato e complottista in questi giorni come avevo previsto molti mesi or sono tutti gli organi di informazione denunciano l'oggettivo decadimento del nostro retrogrado paese guidato da un piano economico e sociale populista certificato e acclarato dal giudizio negativo oggettivo e imparziale delle prestigiose agenzie di rating internazionale ah scusate dimenticavo sono le stesse identiche agenzie di rating verificate in rete che dopo avere giudicato oltre dieci anni fa la lehmann brothers come banca sicurissima giudicano oggi il bozzuana in verde nella mappa mondiale come paese ottimo e l'italia in arancio come paese spazzatura ora questo è il testo del mio post naturalmente si scateneranno in rete coloro che diranno il miracolo economico del bozzuana il fatto che sia passato dagli anni 60 ad oggi da un reddito pro capite di non mi ricordo i dati a memoria credo qualche centinaio di dollari a qualche 10 15 mila giù di lì credo immagino e via discorrendo mi parleranno del pil del bozzuana mi citeranno il fatto che è il terzo produttore di diamanti del mondo mi diranno che quello che conta è il pil economia e via discorrendo ora a parte il fatto che a questi signori io vorrei dire scusate solo una cosa ma se c'è una relazione lineare rischio rendimento e se le agenzie di rating nel momento in cui emettono un giudizio essendo questo giudizio una classificazione ordinale quale quantitativa di merito assegna a quel giudizio un rendimento per essere più chiaro se il giudizio è alto allora il rendimento deve essere alto se il giudizio basso il rendimento deve essere basso e deve essere inversamente proporzionale al rischio c'è un paese molto rischioso pretende un altissimo rendimento e viceversa quindi allora io mi aspetterei di vedere che il bozzuana abbia un prezzo del denaro dell'investimento sui suoi titoli dieci anni ben più basso dell'italia un po' come succede per la germania no la germania che è un paese ritenuto percepito estremamente virtuoso ha un costo più basso non sto a ripetere il discorso dello spread tra l'italia e la germania è ben vero che certamente il bozzuana sia uno dei paesi più interessanti del mondo certamente uno dei più interessanti dell'africa per investire ma voglio portare il piano della discussione sul fatto che intanto quando standard and pours ci dava a meno scusate tripla b e dava al bozzuana a meno beh i nostri titoli a dieci anni costavano il 3 e 6 mentre invece quelli del bozzuana costavano il 5 e 3 quindi già solo questo mette un po in discussione nuovamente le cose ma voglio portare la discussione non su di un piano scusatemi grettamente materialistico del tipo ma qui ci sono le miniere di diamanti perché io vedete mi rifiuto di considerare la spiegazione dell'economia come unica logica di classificazione di una società io non posso pensare che non si dia alcun valore all'arte alla letteratura alla scienza alla poesia alla storia alla filosofia al diritto a tutto ciò che noi abbiamo insegnato al mondo in secoli e non mi arrendo a questa visione vedete perché non riesco a accettare il fatto che si possa misurare pirandello in moneta piuttosto che che ne so verga in diamanti o magari verdi con delle azioni o delle obbligazioni non possiamo ricondurre tutto il discorso del valore del mondo ad un valore meramente monetario allora voglio aiutarmi col supporto di qualcuno che già aveva affrontato i temi del valore e lo faccio sono andato a rileggermi un testo curioso è il corpus ermeticum di ermete trismegisto in realtà ermetes trismegistos è probabilmente anzi quasi certamente un qualche cosa di mai esistito in realtà sono 17 se non ricordo male trattati in brevissimi trattati in lingua greca con un dialogo finale e questo testo è stato studiato nel medioevo nel rinascimento prima visto come il faro della antichità della filosofia della teologia poi semplicemente come una serie di concetti raffazzonati e buttati lì per fare magia e allora per spiegare queste magie del rating che ti danno un rating basso e poi magari invece il prezzo non corrisponde via discorrendo voglio leggervi questo passo come vedete c'è il testo greco e a fianco c'è la traduzione italiana quindi consiglio a tutti di leggere questi vecchi passi dice questo è il nemico che ha indossato come una tunica che ti strozza e ti trascina verso di sé ma tu avendo alzato lo sguardo e contemplato la bellezza della verità e il bene che in essa risiede non odi il male del nemico e comprendi le macchinazioni contro di te egli rende insensibili quegli organi di senso che non appaiono e che non sono ritenuti tali ingombri di tanta materia e colmi di abominevole volutà affinché ascoltate bene tu non ho dalle cose che devi udire e non veda le cose che devi vedere naturalmente nella nota piepagina si interpreta questo passo come il nemico è l'ignoranza cioè la mancanza di conoscenza ma anche qui non esiste la verità nella scienza non esiste la verità non si può dire che una cosa sia in assoluto migliore dell'altra e che si possano classificare tutte le cose in termini quantitativi la riflessione alla quale cerco di portare le persone e non fidatevi troppo degli economisti e non regionate soltanto in termini di vile valore materiale delle cose altrimenti il mondo sarebbe fatto solo di miniere e di petrolio e grazie al cielo c'è ancora qualcuno che non la pensa così prendo un altro testo che è un certo emanuel kant e le lezioni di etica c'è un passo che sono andato a cercarmi questa mattina perché come ermete trismegisto mi dava un'informazione kant parla del denaro cioè quello di cui stiamo parlando e dice una cosa che vi leggo poiché quindi il denaro rende indipendenti con esso si acquista un maggior rispetto e un valore non si ha bisogno di nessuno e non si dipende da nessuno dal momento però che ci fa indipendenti il denaro ci rende alla fine dipendenti da esso e emancipandoci dagli altri ci riduce a sua volta schiavi o capisco che leggere una tabella della moody's o standard impulse sia qualcosa di più semplice da capire ma kant non è mica male sentite tale valore derivante dall'indipendenza è soltanto negativo provenendo da quello positivo dal potere che la ricchezza conferisce mediante il denaro si acquista il potere di mettere al proprio servizio le forze degli altri gli antichi dicevano che sublime non è la ricchezza ma il disprezzarla il che è vero per l'intelletto il disprezzo delle ricchezze è sublime ma nel mondo è la ricchezza sublime un uomo ricco esercita un influsso nella società sul benessere comune occupa molte braccia ciò che però non rende una persona illustre poiché al contrario è il disprezzo della ricchezza che la rende tale la ricchezza rende illustre lo stato di una persona non la sua natura emmanuel kant lezioni di etica ora dall'antichità all'illuminismo tutti i grandi pensatori hanno sempre pensato insomma che non si possano classificare le persone figuratevi gli stati in termini di valore meramente monetario e allora a quelli che si stanno scatenando in termini di dibattito per convincervi che il bozzuana sia un posto magnifico nel quale vivere che vi danno dei saggi di crescita del reddito del pil pro capite del numero degli occupati e via discorrendo sentite spostiamo la discussione per cortesia perché io non voglio vivere in un mondo nel quale tutta la discussione è tra ricchi e poveri per accettare la logica di spostare mediante un modello che è incentrato sulla logica borsistica le ricchezze dal sud al nord ovest perché di questo stiamo parlando ve la rispiego il bozzuana verso il sud dell'africa e il nord ovest è quello dove ci sono i mercati borsistici sviluppati ma non voglio entrare in questo dibattito perché ve ne voglio proporre un altro e una terza considerazione dopo ermette trismegisto piuttosto che kant e io la scorsa settimana ho detto che in questa situazione così buia del nostro paese forse servono un pochettino di meno gli economisti e forse un pochettino di più i poeti e allora a quelli che vi dicono che il bozzuana è meglio dell'italia perché lì c'è un più alto tasso di crescita e c'è ci sono le miniere di diamanti a me non viene altro che da rispondere citando un poeta italiano era in realtà un cantautore un signore che cantava in una canzone che si chiama via del campo mi riferisco a fabrizio di andrè naturalmente e ci insegnava che dai diamanti non nasce niente e dall'etame nascono i fiori